Fin da bambino mi sono occupato di animali, quando mi sono accorto ho scoperto cosa veniva fatto loro e fin da allora mi sono battuto per aiutarli, proteggerli e salvarli. È da quell'amore sbocciato quando era solo un bambino che nasce il libro di Gabriele Merlo, animalista e dirigente delle guardie zoofile Leida. Il manuale Salvo una vita racconta infatti l'animalismo sotto una nuova luce raccontato dall'interno da un professionista che dopo anni di interventi e azioni mirate svela alcuni trucchi del mondo animalista. Il libro è stato presentato anche ad Arezzo nel corso di un'iniziativa organizzata dalla sezione a retina di Leida. Un libro mai scritto fino ad oggi che permette di proteggere, difendere e salvare gli animali in maniera concreta c'è anche una parte della mia vita e Salvo una vita racchiude all'interno 35 anni di esperienza ed è scritto in maniera semplice, mi dicono anche coinvolgente e spiega semplicemente come poter fare ripeto a salvare, proteggere e difendere gli animali. È un libro adatto a tutti, sia all'animalista professionista sia invece al mero amante degli animali che vuole approcciarsi al mondo dell'animalismo. Acquistando il libro si contribuirà anche a salvare vite. Con i diritti del libro, grazie a Randaggi del Sud, un'organizzazione che ho aperto alcuni anni fa per gioco e oggi conta più di 100 volontari, ogni anno portiamo in Sud Italia tonnellate e tonnellate di aiuti e cibo a volontari e rifugi in difficoltà. E Salva una vita è anche un progetto multimediale perché all'interno di Salva una vita c'è un'email collegata al mio sito dove le persone possono mandare le storie degli animali salvati grazie al libro.